Per il calcio, da fino a sabato nello stadio comunale di Montecatini Terme è l'undicesima edizione della rassegna nazionale dei centri di igiene mentale organizzata dalla UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Alla manifestazione partecipano 16 squadre provenienti da tutta Italia. Roberto Vigiani. Il calcio è un modo per stare insieme, divertirsi e togliere qualche pensiero di troppo. Giuseppe ha 30 anni e gioca a calcio da circa 6 e un paziente psichiatrico che grazie a pallone è riuscito a seguire un percorso riabilitativo e a integrarsi nella società. È la storia di un ragazzo che partecipa all'undicesima edizione di Matti per il calcio, 4 partite al giorno, più di 200 persone coinvolte e 16 squadre in campo formate da persone con disagio mentale, medici, infermieri e operatori. Un risultato direi grandissimo, proprio così, dicevo un punto di arrivo, un punto di ripartenza, quindi diciamo un po' la rappresentazione di un'attività che UISP porta avanti da oltre 30 anni, diciamo il pallone, il calcio, il gioco come terapia. Nei tre giorni a Montecatini l'obiettivo è quello di mettere in fuori gioco discriminazione e pregiudizio per contribuire a favorire l'integrazione e vincere l'isolamento. Per me il calcio rappresenta una parte della mia vita, già da piccolo ero appassionato di calcio e tuttora faccio calcio anche se ho una disabilità. L'appuntamento toscano è solo l'atto conclusivo delle tante attività sportive svolte durante l'anno dalla UISP, attività che permettono a questi ragazzi con disabilità psichica di affrontare i rispettivi percorsi e le terapie farmacologiche con un atteggiamento diverso. In questi anni abbiamo visto passare veramente situazioni differenti, abbiamo visto ragazzi riabilitarsi, abbiamo visto ragazzi ripartire.